Il trionfo del bene sul male Sì, voglio fare mie le parole del servo di Dio Don Tonino Bello il quale facendo un suo commento proprio sul mistero della croce dice Gesù sulla croce è rimasto appeso solamente tre ore e questo dice Don Tonino Bello per noi è un motivo di speranza perché ci dice che tutte le sofferenze umane di qualsiasi natura esse siano sono circoscritte nei paletti di quella croce. Perché Gesù ci chiama non alla morte e alla sofferenza bensì alla resurrezione e alla vita e questo ultimo momento in cui noi abbiamo messo in scena appunto la resurrezione di Cristo e le sue apparizioni agli apostoli sono proprio la risposta più eloquente di questa vittoria della vita sulla morte, del bene sul male. Grazie Grazie Grazie